GF VIP, Davide Silvestri non trattiene le lacrime, non mi sento uomo GF VIP, Davide Silvestri scopia in lacrime, ci sto lavorando Davide Silvestri ha abituato il pubblico e i coinquilini del GF VIP al suo carattere sempre allegro e giocoso Ma l'attore ha anche un lato molto sensibile che Alfonso Signorini ha voluto approfondire Davide, ripensando alla sua carriera tra l'altro cominciata quando aveva solo 16 anni Ha pensato a come e quanto è cambiato come persona, arrivando a non trattenere le lacrime Sono diventato meno istintivo e più educato più uomo non del tutto ci sto lavorando A volte non mi sento uomo del tutto Davide ha poi ricevuto una bellissima sorpresa da parte del padre, che per lui ha girato un video molto emozionante Davide Silvestri senza fiato al GF VIP, avevo 16 anni Davide Silvestri ha cominciato la sua carriera da attore quando aveva 16 anni con la storica fiction Vivere E al GF VIP ha ripercorso le tappe di ciò che gli è accaduto da giovane quando fu notato a Milano Infatti Davide Che ha difeso Soleil Sorge, ha raccontato, da piccolo volevo fare l'astronauta, lo spazio era il mio posto tranquillo Avevo 16 anni quando è cominciato il mio mestiere d'attore Sono stato scoperto da una fotografa a Milano che mi ha cambiato il look, poi ho fatto il mio primo provino GF VIP, Davide Silvestri ringrazia il padre, è stato fondamentale Davide Silvestri ha avuto un inizio di carriera molto precoce, a soli 16 anni Ma ha conosciuto anche dei momenti difficili durante i quali si è rimboccato le maniche e ha lavorato Tra le persone più importanti della vita di Davide vi è il padre, il quale gli ha fatto un video messaggio bellissimo, e sul padre Silvestri ha dichiarato Mio padre è stato fondamentale, ho le sue parole nel cuore, sono sempre stato umile ma con le sue parole ho imparato il rispetto del lavoro Mio TensorFlow Mio 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 are